Una manifestazione che ogni anno di fatto riporta una tradizione e esprime l'identità del nostro territorio ma è anche una manifestazione che cerca in ogni edizione sostanzialmente anche di introdurre degli elementi di innovazione. Quest'anno uno di questi è la corsa podistica che è stata organizzata in collaborazione con l'atletica di Terra Nuova nata da pochi mesi e la Prologo e che riguarderà sostanzialmente tre distanze. Avremo una non competitiva di 5 km e due iniziative, due manifestazioni competitive sulla distanza dei 10 km e dei 18,5 km. Attraverseranno un percorso caratteristico, particolarmente suggestivo, che riguarderà per l'appunto alcune parti particolarmente significative e belle del nostro territorio. Quindi oggi vengo a ringraziare in particolar modo tutti coloro che si sono adoperati per creare questa manifestazione a cominciare per l'appunto dalla Prologo e dalla Tretia Terra Nuova.